Di questo ritiro mi è piaciuto assolutamente tutto. È stato meraviglioso, ci siamo trovati persone in stessa onda, come si dice, e sono stata molto soddisfatta. Io consiglierei perché hai possibilità di crescere, di scoprire te stessa, sentire emozioni grandissime, trovi persone che ti danno sempre ancora qualcosa di più che forse aspettavi. Proprio superi. Io ho lasciato, ho sciolto i miei blocchi che mi hanno, diciamo, soffocato. Forse non sono ancora tutti, ma mi sono liberata di tante robe che non mi facevano bene. Sono contenta che so come reagire, come andare avanti con questo esempio di crescita. Spero che arrivo ancora meglio. Particolari rivelazioni non ho avuto tanto, ma una vita è come una strada che ho capito che devo fare. E' una strada avanti senza paure, senza pensieri negativi, con la forza e amore e vado fino a subvolare. Siamo stati sempre in aperto, in posti meravigliosi, con energia splendida, forte, che ha arricchito il nostro cuore, nostra anima. E' proprio una splendida esperienza con natura, con pace e con tutto bellissimo. A casa mi porto tante robe. Ho conosciuto persone nuove con cuori aperti, con splendide anime. Che c'è Patrizia, meravigliosa, ha dato il massimo che poteva di se stessa, con una forza e amore che è entrato nel nostro cuore. E' stato anche Virgilio, che è stata una persona molto importante. E' il nostro, diciamo, punto di riferimento, di gioia. E' quel pepe nel, come si dice, che dà più felicità per ricludere tutte robe belle. Mi porto la sapienza, la coscienza, che si può sempre lavorare su noi stessi, che c'è sempre la possibilità di volare, di andare avanti, non avere paura di niente, provare. E' proprio tutto bello. E' stato meraviglioso. Dico a tutti voi, andate, provate, vivete e volate. Voglio dire, tanto grazie a Patrizia che si è impegnata e preparato un grandissimo, bellissimo corso, con tante sorprese, con robe meravigliose. Ha mostrato posti stupendi, ha dato energia sua. Proprio è meravigliosa e ammiro, perché è semplice, chiara e molto amorevole. Grazie a tutti, venite.